Roger Vadim fu il primo marito di Brigitte Bardot. La loro storia torna sotto i riflettori in quanto da stasera in TV, lunedì 17 giugno, su Canale 5 andrà in onda Bardot, la miniserie biografica dedicata all'icona sexy degli anni 50. Un amore durato poco in loro, ma scopriamo chi è Roger Vidam. Roger Vadim, all'anagrafe Roger Vadim Plemyannikov nasce a Parigi, 26 gennaio 1928 e muore nella sua città natale l'11 febbraio 2000 all'età di 72 anni, è stato un regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico francese. Figlio di Igor Nikolaevi Plemyannikov, un ufficiale russo bianco e pianista che emigrò dall'Ucraina, divenne un cittadino naturalizzato francese e fu vice consol della Francia in Egitto di base ad Alessandria. Sua madre Marie Antoinette Ardiluzze era una scrittrice e saggista francese. Vadim visse la sua infanzia seguendo la carriera diplomatica del padre in Nordafrica ed in Medio Oriente. Poi, a causa della morte di Igor, quando Roger aveva nove anni, la famiglia fu costretta a tornare in Francia dove sua madre iniziò a gestire un ostello nelle Alpi francesi che funzionava come rifugio per gli ebrei e per altri fuggitivi che scappavano dal nazismo. Vadim diventò attore a 16 anni. Nel 1947 fu assunto come assistente scrittore del regista Marc Allegret. Nel suo primo film da regista, Piace a troppi, e Dio creò la donna, 1956, lanciò Brigitte Bardot che divenne sua moglie. Vadim morì a 72 anni, a causa di un linfoma ed è sepolto nel cimitero di Saint-Tropez. Roger Vadim si sposò per ben cinque volte ed ebbe quattro figli. Nel 1952 sposò l'attrice Brigitte Bardot, da cui divorziò nel 1957. Nel 1958, sei mesi dopo il divorzio, sposò l'attrice Annette Stryberg, con cui ebbe una figlia, Natalie, 1957. Il loro matrimonio finì nel 1962. Nel 1961 ebbe una relazione con Catherine Deneuve che durò due anni e da cui nacque un figlio, Christian, 1963. Nel 1965 sposò l'attrice Jane Fonda, con cui ebbe una figlia, Vanessa, 1968. Il loro matrimonio fu turbolento e si concluse con il divorzio nel 1973. Nel 1975 sposò l'attrice Catherine Schneider, con cui ebbe un figlio, Vanya, 1974, ma anche questo matrimonio terminò con un divorzio due anni dopo. Dal 1980 al 1986 ebbe una relazione con la sceneggiatrice Ann Biederman. Nel 1987 iniziò una relazione con l'attrice Marie-Christine Bardot, che sposò nel 1990 e con cui rimase fino alla morte. Bardot Deneuve Fonda, tre donne, tre incontri, tre amori, è il libro che il regista pubblico in cui raccontava le sue relazioni con Brigitte Bardot, Catherine Deneuve e Jane Fonda.